Tra i personaggi dei cartoni animati doppiati il direttore Skinner, dalla stagione 9, è Barney Gamble, dall'ottava stagione, in sostituzione di Massimo Corvo e Mario Bombardieri, e è Diney Simpson. Inoltre, nella serie Buzz Lightyear da comando stellare è la voce di Buzz, in sostituzione di Massimo D'Apporto. Al cinema ha doppiato Patrick Swayze, Alec Baldwin, Wesley Snipe e molti altri. Nei telefilm ha doppiato James Pickens Jr., in Grace Anatomy, inoltre ha fatto da voce narrante nei documentari della grande storia e nel doc V Reality Sun, Sex and Suspicious Parents.